Ufficio Tributi, il malessere nei dipendenti crea una paralisi nei servizi. Continua lo stallo sull'erbistino del monte ore richiesto dal dirigente dell'ufficio Tributi che ammonta 300 ore da destinare ai dipendenti ideal service di quel settore. Stallo dovuto alla mancata regolarità del DURC, dell'altra azienda, dell'ATI, la società cooperativa Util Service, che in questi giorni ha reclamato per mezzo stampa anche parte delle ore destinate da tale ripristino in virtù dell'allineamento del lati orizzontale che vige con Ciclat. Uno scenario che se confermato dalla RUP non farebbe altro che innescare una futile guerra tra lavoratori, proprio quella che dice di voler contrastare Util Service nelle dichiarazioni stampa rese in questi giorni. Sostengono che non devono esserci lavoratori di serie A, B e C, ma proprio loro hanno unilateralmente proceduto a mettere in un ammortizzatore sociale Covid-19 i lavoratori addetti ai servizi confermati dalla proroga tecnica, stavolgendo nei fatti tutta l'organizzazione, creando così figli e figliastri. Vorremmo capire anche come può lavorare un'azienda senza DURC e a questo punto è a continuare a dettare il bello e il cattivo tempo all'interno del lati. Ci sono dei lavoratori da difendere dietro le aziende e a loro va il nostro impegno e la nostra costanza. Abbiamo preteso fin dal primo giorno la certezza delle clausole sociali in tutti gli incontri avuti con l'amministrazione e ci auguriamo che il Vice Sindaco riesca questa volta a mantenere gli impegni assunti in termini di approccio alle nuove gare singole e che queste siano realmente celeri, anche se il rischio che crediamo si possa compiere sia un classico per noi siciliani. Cambia tutto per non cambiare niente. Queste le dichiarazioni di Alessandro Valsquez, Teresa Pintacrone e Anna Florida, rispettivamente i segretari Filcams e CGL e Fisoscat CIS e Wiltux. La partita quindi è lontana dalla risoluzione e non si escludono nuove azioni di protesta da parte dei lavoratori e sindacati che concludono che questi sono i risultati dello scelerato taglio operato dall'amministrazione comunale causa Covid-19. Una volta che l'emergenza fosse praticamente superata, tardiva nella tempistica e paradossale, se pensate che i lavoratori di cui è stata richiesta la presenza durante il periodo più grave dell'emergenza in protezione civile, in seguito alla proroga riduttiva avvenuta a fine maggio, sono state dispensate alla svolgere interamente il proprio orario di lavoro, scelta scaricata sulle spalle dei lavoratori di Util Service e della Ideal Service e che di certo non si può risolvere in un gioco al massacro tra lavoratori.